Questi sono gli auricolari Baseus e rappresentano uno dei migliori prodotti per fare sport, si chiamano Open Air Sport One, sono adatti per correre ma anche per ascoltare la musica e perché no, per essere utilizzati durante il tempo libero. Ecco comunque le cose che mi sono piaciute e a chi sono adatti. In primo luogo questa Open Air assolutamente ha un design fantastico, non dimentichiamoci che Baseus ha vinto 157 premi Red Dot e in effetti ha gli stessi vantaggi delle cuffie a conduzione ossea senza avere lo svantaggio che è quello che potrebbe crearvi qualche problema mentre correte di bilanciamento. La cuffia è davvero molto confortevole, infatti è pure scritto Build for Comfort e vi consente di inserirla nelle orecchie in maniera molto semplice. Non dico che potreste correre 5 ore di fila con queste cuffie perché comunque la limitazione è la corsa, non tanto l'ascolto delle cuffie stesse, ma l'aspetto davvero vincente è che nonostante non sia a conduzione ossea vi consente di ascoltare tutto quello che c'è nell'ambiente evitando effettivamente il problema di isolarvi rispetto a quello che invece avviene nell'ambiente, cosa che secondo me è molto pericolosa e invece questa cuffia vi consente di gestire. Un altro aspetto da non trascurare che ho amato parecchio è quello che lo strumento utilizza una directional technology con un suono che va indirizzato con un angolo di 20 gradi, questa cosa vi permette di ascoltare la musica o quello che volete ascoltare e magari anche essere in una conference call senza effettivamente che le persone che vi sono vicine possano sentire quello che state ascoltando, cosa davvero vantaggiosa, chiaramente non correndo però mentre state facendo una conference call questa potrebbe essere un valore aggiunto di questa cuffia. Anche se è vero che sono pensate per fare sport magari correndo ma anche andando in bici oppure perché no rilassandovi sul divano potreste utilizzarla in maniera piacevole perché questa cuffia ha un driver di 16,2 mm e vi consente di avere un suono assolutamente perfetto. Credo che sia uno dei migliori suoni che abbia mai ascoltato per una cuffia con una vocazione sportiva e quindi potreste utilizzarla non soltanto correndo ma come già detto anche sul divano. Ho amato il fatto che la durata della batteria è davvero eccezionale. Non dimentichiamoci che Baseus è stata quella tra le altre che ha inventato il fast charging con i cellulari cinesi ma utilizzo pure la loro batteria per ricaricare l'iPhone. Questo dispositivo se non è collegato alla base ha una carica di 7 ore e mezzo mentre se si collega tutta la base dura fino a 30 ore cosa che vi consentirà di correre per tutta la settimana e di utilizzarlo anche magari sul treno o perché no in un cross training in bici dal mio punto di vista non vi capiterà in nessuna situazione di non riuscire a correre con questi dispositivi. Nel mese di utilizzo non ci sono stati problemi di ricarica ovviamente la custodia è relativamente più ingombrante rispetto a quella tradizionale ma al tempo stesso non avrete nessun problema e utilizzerete questo prodotto per tutti i giorni in ogni situazione. È importante sottolineare la vocazione ricarica di Baseus che effettivamente si vanta e l'ho provato e funziona davvero di poter ricaricare il prodotto soltanto in 10 minuti per poter poi correre per due ore cosa che secondo me è un valore aggiunto soprattutto per chi non potesse fare a meno di correre con la musica. Un altro aspetto super positivo è che la ricarica avviene tramite un USB-C e non con un caricatore con un cavetto cinese questa cosa vi consente una ricarica assolutamente super rapida in meno di due ore riuscirete a caricare il dispositivo stesso e ovviamente in pochi minuti potreste andare a correre anche perché 30 ore di carico vi possono permettere di correre tutta la settimana e di utilizzare il prodotto al vostro meno. Ma per dimostrare la polivolenza di questo prodotto sappiate che ha una latenza di 0,06 secondi quindi può essere utilizzato non soltanto per correre ma anche per giocare e amerete effettivamente la connessione davvero super rapida. Parlando di design la struttura in silicone vi consente un inserimento nell'orecchio in maniera piacevole poi soprattutto mentre correte non avrete nessun problema che il dispositivo si stacca perché è davvero configurabile in maniera piacevole anche grazie al cuore del prodotto stesso che è in alluminio e che effettivamente è pensato per restare incollato alle vostre orecchie. Ho amato inoltre il fatto che il collegamento con il vostro Garmin è davvero molto efficace e basta piazzare il dispositivo nelle orecchie e schiacciare due pulsanti e immediatamente riuscirete a sentire la musica senza fare nessuno sforzo anche perché questo prodotto consente un utilizzo contemporaneo dei due dispositivi quindi potreste udarlo non soltanto con il Garmin ma anche e soprattutto con il vostro telefono. L'ho amata non soltanto in corsa ma anche per fare delle conference call utilizza quattro microfoni ENC e soprattutto con l'intelligenza artificiale riesce a separare la voce dal potenziale suono di sottofondo anche se fosse all'aperto con un vento di sottofondo il vostro interlocutore sentirà chiaramente la vostra voce l'abbiamo provato in diverse situazioni e questa cosa vi consente di fare delle conference call per tutta la giornata anche legata al fatto che appunto non si scarica praticamente mai. Trovo poi che il design sia effettivamente molto efficace esiste anche la possibilità di agganciarlo a una piccola cordicina nel caso in cui non vogliate utilizzare il caricatore è un'idea davvero geniale che permette comunque di portarselo con sé in ogni situazione. Lo strumento poi è stato pensato per correre pure quando è buio perché si illumina di colore grigio e di conseguenza potreste essere visti dalle eventuali macchine che passano durante le serate senza ovviamente prestare attenzione al podisamatore che sta correndo. Ho apprezzato il fatto che possiate essere visti in maniera assolutamente brillante grazie a questi auricolari chiaramente state attenti mentre correte perché il conducente dell'auto potrebbe essere più distratto di voi e quindi prestate la massima attenzione mentre correte. Un altro aspetto interessante è che il prodotto può essere comprato direttamente su amazon.it il prezzo è assolutamente accessibile credo che abbia per tutte le caratteristiche davvero un ottimo rapporto qualità prezzo metto qui sotto un link per l'acquisto e effettivamente l'acquisto su amazon come sappiamo può consentirvi un'eventuale restituzione nel caso in cui non sia poi adeguato alle vostre caratteristiche. A completare poi l'esperienza d'ascolto esiste la possibilità di scaricare l'app Baseus che vi consente di configurare al meglio tutte le caratteristiche del prodotto e effettivamente questa configurazione poi si può trasferire automaticamente sul Garmin e di conseguenza avreste sul Garmin il suono più adatto ai vostri gusti. Chiaramente correndo non è necessario però è sicuramente una value proposition in più che questo prodotto offre. Il prodotto è waterproof ipx 4 e quindi potreste anche utilizzarlo durante questo maggio pazzerello con la pioggia. Chiaramente a livello di gestione del sudore è raccomandato ed è pensato per correre anche a 40 gradi ma date le temperature di questi giorni non ho potuto provarle in quelle condizioni. In conclusione ritengo che Baseus Sport possa rappresentare qualcosa che mancava sul mercato. A meno di 80 euro metto il link ad acquisto qua sotto potreste trovare un prodotto dall'ottimo rapporto qualità prezzo e soprattutto vi consentirà di correre in maniera piacevole ascoltando la musica. Ovviamente vi consiglio di fare attenzione perché le strade sono molto pericolose e voi nel frattempo 6 Strong Keep Running prodotto assolutamente raccomandato. Ci vediamo alla prossima!